Una volta non avevo niente. Poi ho avuto questo lavoro. Questa famiglia. Ma niente dura per sempre. Te ne sei dovuto andare in fretta. Non è facile di questi tempi. Quindi che cosa farai? Ho vissuto molte vite, ma non voglio più fuggire dal passato. Lo so che sei lì. Lo so che lo sai. Allora vogliamo parlare da adulte? E questo che siamo? Bello anche per me rivederti, sorellina. Come mai sei tornata? Abbiamo dei conti in sospeso. Dobbiamo tornare dove tutto ha iniziato. Che fortuna. Una cosa incerta. Sarà una bella rimpatriata. Ancora mi sta. Famiglia. Di nuovo tutti insieme. Sei ingrassato. Allora. 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 Cor Tyson. Grazie a tutti